Addominali perfetti è un fisico impeccabile, ecco come si allena Elisabetta Gregoraci. Elisabetta Gregoraci utilizza spesso i manubri per allenare e tonificare le braccia, il petto e le spalle. Una sessione di lavoro che se effettuata con costanza permette di ottenere risultati davvero notevoli. Uno dei punti di forza del suo fisico perfetto è sicuramente l'allenamento dei muscoli addominali. Elisabetta svolge con diversi esercizi. Anche in questo caso la costanza e la precisione nell'esecuzione permettono dei risultati evidenti e per rendere la cosa ancora più difficile Elisabetta esegue delle sessioni da 20 ripetizioni utilizzando anche dei pesi. Un altro esercizio praticato da Elisabetta consiste nelle trazioni alla sbarra con le gambe, ideale per gli addominali e i muscoli della schiena. Gli addominali vengono allenati anche in modo più classico, ossia con la schiena appoggiata al suolo e le gambe sollevate. Poi attraverso questi salti eseguono allenamento utile a tonificare gambe, glutei e addominali. Una sessione faticosa, oltre che molto sensuale e decisamente apprezzata dai suoi oltre 600.000 follower.